Grazie, oggi non parleremo del Jurassic World o di Jurassic World 2, ma parleremo della mia ranocchia. Gli ho dato un insetto vivo e adesso ve lo faccio vedere. Non trovo più insetti nella notte, però stamattina nel TV Suoi mi è capitata una bella mossa. Un altro bello fiore, là c'è il girino che ha le zambe lunghe e più presto diventerà una ranocchia. L'insetto è qui, lo vedete? Non si vede bene? Sì, è qui nella foglia. Si muove. Non è una rana, ma è un insetto questo. Ha le ali, vedete? E questa qui è Baffetta, la mia ranocchia. Non essere timida, esci. Quando pare la mia ranocchia è timida. Wow! Incredibile! Brava Baffetta! Un bello spettacolo! Si ha mangiato l'insetto? No! Ha cercato di afferrarlo! L'avete visto, raga? Questo video si intitola, l'attacco di Baffetta alla mosca. Brava! Cosa vi dicevo, raga? Le rane sono acute. Mangiano insetti. Ce l'ha in bocca, Baffetta, è scappato. No, è scappato. Però bello attacco hai fatto. Quella è la sua ciotola. E ancora è piena di vermi. Ovviamente sono vermi in scatola. Che sarebbe... Questo è il cibo per le mie rane. Sono vermi. E qui non è Baffetta, ma un altro girino. Che questo ha le zambe. Non so se si vede bene. Dalla tecamea non si vedo, però si... Vedete come si muove? Però le zambe non sono visibili. Ce le allunghe. Io inquadro ora Baffetta. Baffetta, hai fatto un bel attacco. E ora è qua l'insetto. No, è lì. Qua è l'insetto. Ah, ma dove è andato? Là. Guarda come cammina. Sì, sì, ora Baffetta tenderà ad acchiapparlo, senza altro. Le rene sono silenziose quando cacciano. Dì, ma vedelo. Lei dove è Baffetta? Qua è. Sta salendo. Sta salendo perché lo... Piano piano. Sì, perché lo... Fai tirare la linea. Vedete raga, le rene sono intelligenti nel cacciare gli insetti. Questa è Baffetta, la vedete? La mia ranocchia. E quello è l'insetto della pomba del fiore. Qua, lo vedete? E qua. E fermo l'insetto. Ma è pronta all'attacco, Baffetta. Se lo riesce a vedere. Le rane devono essere calme nella caccia di un insetto perché gli insetti sono veloci nel volo. E le rane devono essere silenziose per catturare un insetto. Gliel'ho dato vivo. I vermi che gli do ogni volta sono tipo morti, non vivi. E ora dove è finito? L'insetto? Dove... Ah, no, si è spostato. Non si riesce a vedere. Sì, ma prima o dopo lo è chiappato. Però mi è piaciuto il primo attacco. Primo attacco non me lo sarei mai aspettato. Di solito nel documentario ho visto le rane attaccare gli insetti. Ma dal vivo mai. Questa che c'è, è una rana comune. Che si trova in parti dell'Asia e anche dell'Europa. O paludio oppure altre specie di posti come gebbiolini o stagni. Qui c'è un girino, ve lo inquadro. Non si vede bene? Sì, si vede. Però non si vedono bene le zampe. Questa è una vaschetta, raga. Ma c'è altri girini. Però non hanno le zampe. Sono solo girini. Ma almeno andranno qua. E ho visto che la crescita è rapida. Perché vedono... Vedete, raga? Qui. Questa è una roccia. Non è una comune e semplice roccia. Ma è una roccia a scaletta. Quando i girini si trasformano in rane, salgo su questa roccia ed esco fuori dall'acqua. Eccolo là l'insetto. Ma dov'è? Non si riesce a vedere. Ah, eccolo, lo sto vedendo. E' qua. Lo vedo muoversi, raga. Ma la baffetta ancora non se ne è accorta. L'ha perso. Gli daremo una mano? Cosa ti soffre con dei girini e ci sono con le zambe? C'hanno le zambe quelli. Si vede dalla telecamera? Sì. Si vedo, sono scattosi. Ce n'è uno fermo. E' vero. C'è stata di là. Sotto la roccia è andata qua. Sono là sotto, raga. Sì, ora è visibile. Si vedono le zambe. E quello di quella roccia che fa con la grappa? Qual è questo? Sì. Vedete baffetta è lì, seduta, pollaiata? Voglio aiutarla a trovarlo. Ma se tu ci apri il coperchio quello vola, viaggio l'infetto. E' là, nella foglia, appoggiato. Baffetta a sinistra. Devi andare dietro di te, c'è. Cosa, cosa che vola qua? Cosa? Una moschetta qua. Sì, è una moschetta. Guarda. Poi ce la prende. E' quella che aveva visto io là? Di sicuro. Ed era quella che era sulla porta. E' bella, grossa, il gironzo. Allora, guarda, dov'è? Raga, c'è una bella... Un bel bocconcino per baffetta. E' sul lampadario. O meglio, sul neon. Della cucina. Baffetta, l'insetto è dietro di te. Bravo! Hai il coraggio di andare, mi una rana e insetto. Non pensavo che gli insetti fossero così coraggiosi. Ma baffetta ancora non se ne è accorta. La mia ranocchia. Voglio aiutarla. Guardate, raga, è lì, baffetta. L'ho aiutata. Ora lei deve individuare dove è l'insetto. L'insetto è qui. Ma lei deve individuarlo. Baffetta, sei pronta? Brava! Muoviti! Brava, baffetta! Muoviti! L'insetto è sopra di te. Ti sto aiutando. Ora è andata là. 8, 9, 9. Ok. Però è stato bello questo attacco. Raga. Un bello attacco. C'è un insetto. Ma lei, baffetta, non sa dove andare. Dobbiamo aiutarla. Sono 10 minuti di registrazione. Dobbiamo aiutarla. E ora dov'è finita? Baffetta. E ora dov'è finita? Voglio aiutarla a catturare. Raga, baffetta ha perso il suo pasto. Ma adesso... Ehm... Bene ragazzi, spero tanto che il pasto di baffetta vi sia piaciuto. E scrivete al mio canale se vi è piaciuto il video. Ah, e ho caricato ieri un video su Jurassic World del gioco. Affrontiamo Omega 09. E andatelo a vedere. L'ho caricato ieri. Ehm... Ci vediamo più tardi. Ciao raga!